Cristiana Girelli, a due mesi dall'ultimo appuntamento la Nazionale torna in campo per le ultime due gare della stagione. Giovedì la prima contro i Paesi Bassi, ora magari non è il caso di parlare di rivincita, ma c'è la voglia di far vedere quanto vi siete avvicinate? Sì, credo che hai detto bene. Non è giusto parlare di rivincita perché ormai quella partita fa parte del passato, però sicuramente sarà una sfida affascinante, loro saranno pronte per andare alle Olimpiadi, quindi troveremo una squadra già pronta per fare una partita internazionale come si deve. Noi sicuramente vogliamo continuare a fare bene il nostro percorso di crescita, sarà un test molto importante per vedere a che punto siamo. Dove e come si può migliorare? Cosa ti aspetti dal futuro delle Azzurre? Si può sempre migliorare, credo in ogni aspetto, forse noi dobbiamo tenere quella mentalità che abbiamo avuto al Mondiale, che a volte magari in questi due anni un po' ci è mancata e migliorare su tutti gli aspetti del gioco, del fisico, ma credo che questo sia un gruppo pronto al lavoro, al sacrificio come l'abbiamo sempre dimostrato e quindi sicuramente sarà importante continuare con questa mentalità e con questo modo di lavorare. Si è chiusa una stagione fantastica per te, vittoria del campionato, titolo di capocannoniere in più se state eletta, miglior attaccante e miglior giocatrice in assoluto del campionato. Sono soddisfazioni personali importanti sicuramente per una calciatrice, per una giocatrice, sono anche importanti per il futuro, perché più vinci più magari hai voglia di vincere e questa è sempre stata un po' la mia filosofia. Mi piacerebbe continuare così, però so che dipende dal lavoro, da tutto quello che ho fatto in questi anni.